Siamo con Emilio Bellingardi, direttore generale ai rapporti di Bergamo. Da fine dell'anno scorso ha portato un vettore russo che si chiama Pobeda con gli ottimi risultati. Quindi racconta qualcosa? Sì, abbiamo iniziato nel mese di ottobre, contatti con le autore di aeronautiche russe, poi insieme anche con la collaborazione di Confindustria Russia. Abbiamo iniziato questi contatti con Pobeda che intendeva aprire tre collegamenti verso l'Europa. Uno di questi collegamenti è stato deciso di aprirlo verso l'ERM. Il vettore è un vettore molto performante, molto veloce e molto proattivo nel decidere. Siamo molto soddisfatti. Il volo è un volo giornaliero, è operato giornalmente con un Boeing 737 e ad oggi abbiamo già totalizzato 35.000 presenze su questo volo. Sì, quindi sicuramente verso l'estate i russi per loro sia a Laghi, sia a Milano, sia a altre zone, quindi sicuramente ci sarà, raggiungerete 100 o 150.000 passeggeri russi. Quale impatto anche per l'economia locale secondo voi può dare? Allora, noi ci aspettiamo non solo di raggiungere quei numeri ma anche di più e proprio di questi giorni la conferma che il volo è diventato un volo di linea grazie alla modifica dei rapporti bilazionali fra l'Italia russa. Gli impatti sono enormi, verranno calcolati prima di ottobre dove speriamo che sia il momento dell'evento della tax force italorussa e quello sarà il momento in cui farremo un primo bilancio sugli effetti positivi sull'economia, per ora posso dire gli effetti benefici sull'aeroporto che sono di larghissima importanza. I passeggeri di nazionalità russa hanno la capacità, hanno l'orientamento alla spesa che è esattamente il doppio rispetto a qualsiasi top spenders che ci sia in aeroporto verbo. Quindi il vostro shopping center già ha capito? Assolutamente sì e poi l'impatto sulla città che è comunque evidente, le mostre, il teatro con i zetti, la presenza dei passeggeri di nazionalità russa si fa sentire, non si sente parlare nella città. Quindi vabbè auguro sia all'Apovedo sia al suo aeroporto che è il terzo in Italia per il numero di passeggeri anche per importanza e di successo. Auguro sì che anche noi siamo felici di questo successo, auguriamo che lo stesso successo ci sia per tutto il paese e soprattutto per le relazioni fra Italia-Russia che sono di un'importanza incredibile, una potenzialità incredibile per entrambi i paesi.